L'Europa accelera su un piano di emergenza contro il caro energia, dopo le richieste dell'Italia a un tetto al prezzo del gas, ora è arrivata l'apertura della Germania. Il 9 settembre ci sarà un consiglio straordinario dei ministri dell'energia per trovare una linea comune. Dobbiamo prepararci ad una potenziale interruzione totale del gas ruso, ha monito la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. E in Italia il governo è a lavoro per un piano contro il caro bollette, cerca fondi per aiutare famiglie e imprese. La crisi energetica è diventata inevitabilmente il tema principale della campagna elettorale. In ordine sparse e con qualche distinguo le forze politiche premono per lo scostamento di bilancio, ma il Premier continua ad escluderlo in modo netto. Resalta la tensione nella zona della centrale nucleare di Zaporizia, la Russia accusa gli ucraini di aver colpito con un colpo di mortaio il tetto dell'edificio 1 della centrale. E' atteso l'arrivo degli ispettori della missione della IEA, mentre oggi a Praga si riuniscono i ministri dell'Unione Europea di essere difesa. Al centro del vertice la crisi ucraina. Nel meno 48 ore dopo la conclusione del terzo turno di campionato la Serie A torna in campo e lo fa oggi con tre anticipi. Ad aprile la quarta giornata c'è la sfida di Reggio Emilia tra Sassuolo e Milan. Poi in serata sarà la volta di Inter senza Lukaku infortunato contro la Cremonese e della Roma che ospita in casa il Monza. Sono le 7.30, buongiorno a tutti voi e ben ritrovati. Dunque in primo piano c'è la crisi del gas, si lavora alla possibilità di introdurre un tetto temporaneo al prezzo e arrivare a una separazione da quello dell'energia. L'Europa ne discuterà nel Consiglio dei Ministri, programmato per il 9 settembre. Via Libera è intanto di massimo da parte della Germania, mentre la Francia prepara un piano per ridurre i consumi. Facciamo il punto nel servizio. Per affrontare l'impennata dei prezzi del gas e dell'elettricità, l'Unione Europea lavora senza sosta ad un intervento di emergenza e ad una riforma strutturale del mercato dell'elettricità. La Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, detta il passo. Dobbiamo fare una riforma strutturale di ampia portata del mercato dell'elettricità, questo all'inizio del prossimo anno. Abbiamo bisogno di uno strumento di emergenza che agisca più rapidamente, stiamo parlando di settimane, ha concluso la von der Leyen. Si lavora sulla possibilità di introdurre un tetto temporaneo al prezzo del gas e di arrivare a uno sganciamento dei prezzi del gas, appunto, da quelli dell'energia sui mercati all'ingrosso. Si sta valutando la fattibilità di questo progetto, che pare sia le battute finali. La proposta dell'esecutivo europeo dovrebbe arrivare tra pochissimi giorni. Poi la parola passerà ai ministri dell'energia europei, che il 9 settembre si confronteranno durante il Consiglio straordinario. Si attendono mosse decisive per arginare lo tsunami che si sta per abbattere sull'Europa. Dobbiamo fermare questa follia con una soluzione europea, ha detto negli scorsi giorni il cancelliere austriaco Karl Nehammer. La Germania sembra più aperta al cambiamento ora che gli stoccaggi vanno meglio del previsto. In pochi giorni Berlino potrebbe trovarsi con i depositi riempiti all'85%. Venerdì mattina invece in Francia si terrà un Consiglio di difesa, una riunione ristretta del governo insieme al capo dello Stato Macron, in cui si parlerà dell'approvvigionamento del gas e di energia in previsione dell'inverno. La premier Elisabeth Borne, che sarà presente anche lei alla riunione, ha già parlato davanti al MEDEF, la confindustria francese, di un piano di austerità. Preparatevi per tempo, ha detto la Borne alle industrie. Cominciate a pensare ad un taglio dei consumi del 10%, altrimenti sarà il governo ad intervenire con veri e propri razionamenti dell'energia. E la crisi energetica è naturalmente anche al centro del confronto politico. Il governo lavora all'ipotesi di un decreto aiuti, ma esclude al momento, come richiesto da alcune forze politiche, l'ipotesi di uno scostamento di bilancio. Tutti i partiti in campagna elettorale da ogni piazza d'Italia chiedono con insistenza al governo un rimedio al caro Bollette. Letta dice l'intervento deve essere rapidissimo. E Parazzochigi risponde, stiamo lavorando, ma un nuovo pacchetto d'aiuti per aziende e famiglie arriverà solo la prossima settimana e senza scostamento di bilancio, verso cui Draghi si è sempre opposto, e che invece il Movimento 5 Stelle, Forza Italia e Lega chiedono con forza, ma non Fratelli d'Italia. Infatti Giulio Tremonti, candidato del partito della Meloni, lo dice chiaro e tondo, un nuovo scostamento di bilancio sarebbe una misura molto rischiosa, con l'inflazione e la speculazione in netta ripresa. E allora la questione su cui stanno lavorando innanzitutto i ministri Franco e Cingolani, Economia e Transizione Ecologica, in costante contatto con la Presidenza del Consiglio, è sempre la stessa, dove reperire i miliardi necessari per una nuova spesa. È sempre Tremonti ad avanzare una proposta alternativa, concordare in Europa un taglio comune di tutte le imposte sull'energia. Un'azione che si può fare subito, prima ancora di parlare del tetto al prezzo del gas, puntualizza Tremonti. Ma sul tetto al prezzo del gas, insiste il Partito Democratico, un tetto europeo almeno nazionale, tema che sarà inevitabilmente al centro degli ultimi due consigli europei di Mario Draghi, il 6-7 ottobre a Praga, il 20 a Bruxelles. Trova spazio intanto nel centro-destra l'iniziativa lanciata da Carlo Calenda a tutti gli altri leader di partito e uno stop momentaneo della campagna elettorale, per mettere a punto misure condivise contro gli aumenti abnormi delle tariffe del gas. Dopo Salvini e Tajani, Giorgio Meloni dice probabilmente siamo i primi che hanno proposto un incontro, anche con il governo. Il PD invece non è d'accordo e al Nazareno osservano il gioco delle parti di chi inventa fantomatici tavoli dei leader alla ricerca di protagonismo non solo fa perdere giorni preziosi, ma trasferisce su un terreno istituzionale le divisioni elettorali e ostacola le soluzioni, anziché agevolarle. E dunque non solo la crisi energetica, così come la proposta di un armistizio durante la campagna elettorale, sono tra i temi che animano il confronto politico. Vediamo. Così vicini, così lontani, almeno sul tema migranti. Giorgio Meloni e Matteo Salvini si abbracciano davanti allo stretto di Messina. Uniti si vince, dicono lasciamo alla sinistra rabbia e divisioni. La campagna elettorale riporta negli stessi luoghi, sugli stessi temi, ma con visioni differenti. Nell'estate degli sbarchi, per il leader di Fratelli d'Italia, serve un blocco navale a largo della Libia coordinato a livello europeo. Per Salvini basta riattivare i suoi decreti sicurezza, cancellati dal Conte 2. Anche Antonio Tajani sembra d'accordo con Salvini. Il blocco non serve. Silvio Berlusconi, sbarcato su TikTok, concentra le sue pillole social su indecisi e astensionisti. Il momento è storico, dice, non si può non votare. A sinistra si accende la sfida tra PD e 5 Stelle. Sui temi, Giuseppe Conte annuncia il suo tour elettorale e prova a strappare voti a quel centro-sinistra non fidelizzato PD. Si parte, si parte in treno, parleremo con piccoli e medi imprenditori, sono quelli che fanno grande l'Italia. Parleremo con loro di nuove tecnologie di transizione ecologica, parleremo di copilità energetiche, parleremo anche del superbonus e di come sbloccare i cantiere. Dopo Bologna, Enrico Letta si sposta invece al nord, prima in Veneto, poi a Milano. Missione? Convincere gli indecisi che potenzialmente voterebbero Lega e i tanti derusi dallo stop imposto a Draghi, proprio dal leader leghista. Luigi Di Maia attacca invece a centrodestra dalle colonne della stampa. Se vincerà a sala l'anno della bolla nera, il trio sfascia conti, non avrà i numeri per governare e chiederà a Draghi di tornare entro un anno. E noi siamo pronti, conclude, ad appoggiare un esecutivo del Premier. Scende in campo il tandem Bonelli-Fratoianni, con il primo comizio di Ilaria Cucchi. Basta parlare solo di bollette, si discuta anche di diritti, dice la candidata di sinistra italiana. Se vince la Meloni, Italia alla deriva e fa discutere intanto la proposta di abolire i jet privati ritenuti troppo inquinanti. Resta invece fuori dalla contesa elettorale Marco Cappato. La sua lista referendum e democrazia ha presentato le firme digitali, non quelle cartacee, modalità non ancora previste dalla legge. Ancora notizie dall'estero. Partiamo dal conflitto in Ucraina perché gli ispettori della IEA, l'Agenzia Internazionale Atomica, sono arrivati nel paese. Se le condizioni lo consentiranno nelle prossime ore potranno andare direttamente alla centrale nucleare di Zaporizia, centrale colpita da un colpo di artiglieria. Per fortuna non ci sono state conseguenze immediate. Vediamo. La missione della IEA diretta alla centrale di Zaporizia è finalmente partita. E ora, ai riflettori della comunità internazionale, da settimane in allerta per il possibile rischio di disastri nucleari, è tutta sul team dell'Agenzia ONU per l'energia atomica, che dovrà ispezionare il sito ucraino. Gli undici ispettori dell'organizzazione che ha sede a Vienna sono guidati dal direttore generale Rafael Grossi. Fra loro c'è anche l'italiano Massimo Aparo, vice direttore generale e capo del dipartimento di salvaguardia dell'agenzia. Arrivano in un momento di grande instabilità, soprattutto a causa dei bombardamenti che hanno lambito più volte i reattori nucleari, mentre Mosca e Kiev continuano ad accusarsi a vicenda. Secondo le autorità filorusse che controllano Nergo, dalla città in cui è a sede l'impianto, le forze armate ucraine hanno aperto il fuoco di artiglieria e una granata ha colpito il tetto di una struttura speciale, utilizzata per stoccare il combustibile per i reattori. L'accusa è stata subito rimandata al mittente dal presidente ucraino Zelensky, per il quale a far fuoco su Zaporizia sarebbero state le truppe del Cremlino. Gli attacchi nell'area mirano a compiere un ricatto nucleare nei confronti dell'Ucraina e dell'Europa, dice il leader di Kiev. La Russia è l'unico terrorista al mondo che è riuscito a trasformare una centrale nucleare in un campo di battaglia, ha attaccato Zelensky. I tecnici della IEA sono arrivati ieri in Ucraina in questo clima di altissima tensione, con l'obiettivo di fare chiarezza sullo stato del sito atomico. Per la Casa Bianca la Russia deve smilitarizzare Zaporizia. L'opzione più sicura è la chiusura controllata dell'impianto e nel frattempo la Russia ha messo le mani avanti su quelle che saranno le conclusioni dell'ispezione internazionale. Il Ministero degli Esteri russo ha infatti chiesto che siano professionali e prive di pregiudizi. Un'ultima ora proprio a proposito della centrale nucleare di Zaporizia. Il capo degli ispettori ha detto che domani si recheranno nella centrale e faranno un'ispezione da domani fino a sabato. Adesso spostiamoci invece in Iraq perché il bilancio provvisorio è di oltre 10 morti e alcune centinaia di feriti per disordini scoppiati a Baghdad tra i miliziani di Moqtad al-Sadr e le milizie filo sciite. Vediamo. Le sirene che suonano all'ambasciata americana e cinque colpi di mortaio nelle vicinanze. Sale la tensione a Baghdad. La zona verde della città che ospite istituzioni governative e ambasciate è da ieri al centro di scontri. Il bilancio è di almeno 15 morti e 350 feriti secondo i media arabi. Gli scontri vedono da una parte le Brigate della Pace che riuniscono i seguaci armati del leader sciita Moqtad al-Sadr e dall'altra i già distisciti filo-iraniani dei partiti armati sostenuti dall'ex premier Nuri al-Maliki. Le proteste sono scoppiate dopo l'annuncio con un tweet del ritiro dalla vita politica di al-Sadr. Una provocazione del leader, deluso per il mancato scioglimento del Parlamento e il ritardo nell'indire nuove elezioni dopo che la sua fazione aveva ottenuto la maggioranza relativa nell'ottobre del 2021. Nonostante gli appelli al ritiro dopo il tweet, i seguaci di al-Sadr hanno dato l'assalto al Parlamento, entrando e prendendone possesso per qualche ora. L'intervento dell'esercito ha sgomberato l'edificio ma ha dato il via anche a un confronto armato con i sadristi e a una serie di regolamenti di conti per le strade di Baghdad proprio tra i sadristi e le altre milizie sciite. Inserata l'annuncio di al-Sadr è dell'inizio di uno sciopero della fame finché non cesseranno le violenze. Intanto l'Iran ha chiuso il confine con l'Iraq e l'aeroporto internazionale di Teheran ha reso noto che alcune compagnie aeree hanno cancellato i voli per Baghdad a causa della situazione. Il segretario generale dell'ONU, Antonio Gutierrez, è intervenuto con un appello alla calma e alla moderazione esortando tutti gli attori interessati a prendere provvedimenti immediati per ridurre l'escalation della situazione ed evitare qualsiasi violenza. Andiamo a Taiwan perché il Presidente degli Stati Uniti, Biden, intende chiedere formalmente al Congresso di approvare una vendita di armi per oltre un miliardo di dollari proprio a Taiwan. La notizia arriva mentre la Cina continua ad inviare navi e portaeree nello stretto di Taiwan. Poche settimane dopo la visita della speaker della Camera americana Nancy Pelosi e dopo il passaggio due giorni fa di due incrociatori statunitensi nello stretto. Le forze armate cinesi sono in stato di massima allerta, ha fatto sapere una portavoce cinese. Un portavoce dell'ambasciata cinese a Washington ha detto però agli Stati Uniti di smettere di vendere armi a Taiwan. Adesso spostiamoci nello spazio perché è stato rinviato il lancio di Artemis, la missione senza equipaggio verso la Luna, la decisione dopo le difficoltà nel caricamento dell'idrogeno liquido sul razzo. Ci riproveranno nuovamente venerdì. Slitta di qualche giorno la missione Artemis 1 finalizzata a testare le tecnologie necessarie a volare intorno alla Luna e tornare sulla Terra. Alcuni problemi ad un motore del razzo e una valvola di sfiato sommati ad un meteo inclemente hanno infatti costretto la NASA a posticipare l'appuntamento. I tecnici sono già al lavoro per verificare se sia possibile ritentare il lancio nella nuova data, lancio previsto probabilmente a partire dalle 18.48, ora italiana del 2 settembre. Anche se non sono del tutto esclusi scenari maggiormente pessimistici come il ritorno del lanciatore nel Vertical Assembly Building di Cape Canaveral per interventi più impegnativi. Si dovrà dunque attendere la giornata di venerdì per l'avvio di una nuova fase di test volta a far tornare l'uomo sulla Luna. Una missione di prova per ora senza equipaggio che punta a riportare l'uomo sul satellite della Terra. Il volo spaziale è estremamente complesso e farlo per bene è molto più importante che farlo nei tempi previsti, il commento affidato ai social dell'astronauta ESA Luca Parmitano. In questo modo quindi la missione dovrebbe durare 39 giorni invece dei 42 previsti, concludendosi con un ammaraggio nell'oceano Pacifico l'11 ottobre. Un viaggio attesissimo da tutta la comunità scientifica che va ben oltre la semplice ripresa di quello che accadde negli anni 60 e 70 con il programma Apollo. Si tratta di un vero e proprio nuovo inizio costituito da diversi stadi. Artemis 1 infatti è solo la prima tappa del progetto che ne prevede una seconda, Artemis 2, nell'orbita lunare e una terza, 3, nella quale gli astronauti torneranno dopo oltre mezzo secolo a camminare sulla Luna. Ma non si limiteranno a questo, l'arrivo dell'uomo sul suolo lunare non sarà episodico. L'idea resta quella di gettare le fondamenta per costruire una base stabile che in futuro possa fare della Luna un avamposto per possibili esplorazioni cosmiche verso il pianeta rosso. La cronaca ci riporta a Trieste perché ci sarebbero nuovi elementi nella morte di Liliana Resinovic, la pensionata scomparsa a dicembre il cui corpo è stato poi ritrovato in una boscaglia. Nessun suicidio ma un'aggressione mortale. Il legale del fratello di Liliana Resinovic, la pensionata a 63 anni scomparsa al 14 dicembre, il corpo ritrovato il 5 gennaio in una boscaglia del parco di San Giovanni a Trieste, mette in discussione l'intera perizia medica del consulente della procura che il 10 agosto confermava l'ipotesi del suicidio. Esclusa dalle analisi tossicologiche e l'ingestione di medicinali, l'avvocato Nicodemo Gentile ha valutato gli elementi della perizia svolta. Ci sono segni traumatici sul corpo quindi potrebbe essere stata percossa. Strane fratture, parti tumefatte del volto, come se avesse ricevuto dei colpi. L'orologio rosa, trovato al polso sinistro, quando lei lo indossava sempre al destro, aveva anche la corona al contrario. Sarebbe quindi stata percossa e strattonata da qualcuno che conosceva forse più persone e la scena dove è stato ritrovato il corpo, manipolata. Gli elementi che fanno pensare a una goffa messa in scena sono, secondo l'avvocato Gentile, il ritrovamento delle chiavi di casa di riserva, la borsa che non conteneva le solite sue cose, il cordino che stringeva i sacchetti alla testa e alle gambe dentro cui è stata trovata. Il cadavere sarebbe stato occultato per giorni dall'aggressore, forse conservato in qualche gelido anfratto sotterraneo del territorio del Carso e portato lì qualche giorno prima del ritrovamento. Anche sulla data della morte vengono sollevati i dubbi. Secondo i periti della procura, il decesso risalirebbe a due, al massimo a tre giorni prima di quella data, al 5 gennaio. Per il legale del fratello, invece, sarebbe stato ucciso al giorno della scomparsa. Si tratterebbe dunque di un delitto di prossimità, in quanto maturato nel mondo delle più ampie relazioni di Liliana, sostiene sempre l'avvocato Gentile, che in attesa delle considerazioni finali degli inquirenti ha nominato un ulteriore medico legale. Ed ora la pagina dello sport, che apriamo con il calcio. Il calendario compresso a causa dei mondiali non concede tregua. Oggi tre anticipi del quarto turno di andata. Vediamo quali. Nessuno ne aveva fatto cenno nelle prime tre giornate, ma adesso è tornato sulla bocca di tutti. Il turnover è nuovamente di attualità, con alle porte l'inizio delle Coppe Europee e poi, a fine settembre, la prima sosta del torneo per l'impegno azzurri. Per le due milanesi, però, il richiamo principale è il derby di sabato. Come temeva Simone Inzaghi, l'Inter dovrà rinunciare al Lukaku, fermato da una distrazione dei flessori della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate poi la prossima settimana, ha spiegato il club nerazzurro, che per la gara delle 20.45 con la Cremonese potrebbe riproporre Dzeko in coppia con Lautaro. Probabile rientro di Cialanoglu, mentre sul mercato è sfumata l'operazione Acerbi. Il Milan aprirà il programma alle 18.30 con la trasferta sul terreno del Sassuolo, che si rinforza con l'ala francese Lorienté. Violi chiederà gli straordinari a Leao e a Giroud, brillanti protagonisti contro il Bologna, mentre salgono le chance da titolare per Chier, a rientro dopo un lungo infortunio. Niente da fare invece per Origi e Rebic. Sul fronte mercato, che chiude dopo domani sera, visite mediche per il difensore Pio, ex Schalke 04. Contratto quinquennale, a poco meno di un milione di euro a stagione. Dall'Olimpia Cossa sta per raggiungere Roma, sponda giallorossa e il guineano Madi Camarà, sostituto ideale dell'infortunato Wijnaldum. Per la sfida contro il Monza, ore 20.45, certa la presenza in panchina del neoacquisto Belotti, davanti all'ennesimo pienone. All'Olimpico sono attesi in 60.000. E chiudiamo con il tennis. Ieri sono scattati gli US Open, ultimo dei quattro tornei del grande slam di questa stagione. In campo maschile, esordio positivo per il nostro Matteo Berrettini, l'azzurro semifinalista a Flasci Midos. Nel 2019 ha battuto senza problemi il cileno Giarri, con il punteggio di 6-2, 6-3, 6-3. Eliminato invece Sonego, sconfitto in 5-7 dall'australiano Thompson. In campo femminile successo, rimonta per Camila Giorgi, mentre è stata sconfitta Martina Trevisan. Vittoria al primo turno per Serena Williams, al sempre più probabile ultimo torneo della sua carriera. È tutto, noi ci fermiamo qui. Adesso ci sono gli aggiornamenti sulla viabilità autostradale. Ce li dà questa mattina Valeria Colombo, poi torna Paolo Sottocorona con le previsioni del tempo, poi c'è Andrea Pennacchioli che conduce il dibattito. Tra i suoi ospiti vi segnalo Fabio Martini, Nicola Fratoianni, Antonello Giannelli, Matteo Richetti, poi Marco Piccaluga conduce Coffee Break tra i suoi ospiti, Cesare Damiano, Luigi Brugnaro, Stefano Amadio. Grazie a tutti voi, se volete ci vediamo domani. Una buona giornata.